Vendeva erbe ma di tipo illegale, spacciandole tra i banchi di frutta e verdura. I carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno arrestato un 28enne pregiudicato di capaccio scalo per spaccio di marihuana all'interno del locale mercato ortofrutticolo. Rinvenute complessivamente 84 dosi per 250 grammi di marihuana complessivi insieme alla somma di 2.800 euro, sicuro provento dell'attività criminale. L'uomo, una vecchia conoscenza dei carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.